Prenderà il via, venerdì 12 maggio, per concludersi mercoledì 31 maggio, il progetto Un Soffio e un Battito per la Vita, promosso dal Club Chivanis Vittoria Colonna Valle dei Lippari e dall'Avis, con il patrocinio del Comune di Vittoria. Nella consapevolezza che la prevenzione salva la vita, spiega l'assessore alla pubblica istruzione Gianluca Occhipinti, abbiamo deciso di accogliere l'invito del Chivanis e di patrocinare la prima edizione di questo importante progetto. Infatti, proprio la prevenzione, attuabile soprattutto tramite i cambiamenti nell'alimentazione e nello stile di vita, permette migliori condizioni di salute del bambino e una maggiore possibilità di non incorrere in patologie durante la crescita. I protagonisti sono proprio gli alunni delle scuole primarie della città, che saranno sottoposti a una spirometria e a un elettrocardiogramma per prevenire le malattie cardiorespiratorie dell'età adolescenziale. Il progetto partirà venerdì dall'Istituto Portella della Ginestra e dopo aver toccato diverse scuole, si concluderà il 31 maggio negli istituti Vittoria Colonna e Caruano.